E la sanità pugliese supera l'esame degli adempimenti dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, così si arriva allo sblocco di 72 milioni di euro. Sentite. La Puglia ha raggiunto gli adempimenti dei LEA, i livelli essenziali di assistenza 2019, un risultato che consente lo sblocco del saldo finanziario della relativa premialità pari a 72 milioni di euro. A comunicarlo è la Regione Puglia, dopo la verifica effettuata dai Ministeri delle Finanze e della Salute. La Puglia ha fatto un balzo dai 155 punti del 2015 ai 193 del 2019. Il risultato rappresenta l'esito di un lungo processo di miglioramento strutturale, spiega la Regione. Positivo anche il giudizio sull'equilibrio dei conti e sulla copertura di tutti i costi sostenuti per fraffronte alla pandemia. La certificazione, spiega il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, mostra notevoli miglioramenti raggiunti dalla Puglia nell'appropriatezza dei ricoveri, nella riorganizzazione dell'assistenza territoriale e nella prevenzione, in particolare nel settore delle vaccinazioni. Continueremo, aggiunge, a consolidare i progressi raggiunti con una pianificazione strategica che guardi ai prossimi tre anni in una prospettiva di rilancio post-covid e innovazione, anche grazie ai finanziamenti che giungeranno con il Piano Nazionale di Ripresa e Residenza.